il cavallo tra le strisce che hanno fatto i fuoristrada se ti metti il cavallo rispetto alle righe che hanno fatto già i fuoristrada stai su non tocca la parte 10 cm vedi che è passare qua passi un po' più in qua un po' più in là di qua ci passi fai ancora una cosa prova a buttare questa ruota a destra qui qui così una ruota qua e l'altra lì fai ancora una prova una prova vedrai che sali adesso